In settimana è arrivata la prima ondata di grande caldo dell'estate, dunque in tanti hanno scelto di trascorrere il fine settimana in spiaggia, in riviera. Vediamo dunque com'è la situazione del traffico da rientro collegandoci con Alessandra Canale di Rai, pubblica utilità. Flussi intensi di traffico sulla riviera con i tempi di percorrenza elevati, le tripode al normale. Dopo le 22 i mezzi pesanti riprenderanno a viaggiare quando la circolazione sarà ritornata alla normalità. Su buona parte delle strade della nostra regione c'è molto traffico, è molto trafficata la 14 da Forlì a Castel San Pietro, corrono pensate circa 2 ore e 30 minuti, tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio 35 minuti perché è molto congestionato, ma anche sulla 1 tra Fiorenzuola e Parma in direzione Milano corrono 35 minuti e vi comunico anche sulla 15 Parma-La Spezia, code per 3 chilometri tra lo svincolo di Parma e il bivio della 1 in direzione Milano. Vi comunico infine, code motivate da un incidente verificatosi sulla 13 raccordo Porto Garibaldi tra Rovereto, Porta Maggiore e Ostellato. Queste le notizie di Maggiore Lievo, restituisco la linea e buona serata.